Sulla ruota di Ballerini si è piantato Zep Van Marche, poi c'è Eugenier, via via tutti gli altri, la trenata di Florian Seneschal Andiamo Davide! Adesso tocca a Davide Ballerini, Davide Ballerini, prova la rimonta Zep Van Marche, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è! Let Newsblad torna a parlare italiano!